Incidente questa sera, giovedì 22 novembre, poco prima delle 17.30, sulla strada provinciale 13 nei pressi del distributore Ergas a Maurizio Canavese. A scontrarsi due vetture, una Fiat Stilo Station Wagon, condotta da un uomo di origine cinese e una Fiat Panda con a bordo due uomini. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di San Maurizio Canavese, Torino, la polizia locale, i carabinieri e il 118. La Fiat Panda è stata sbalzata nel fosso che costeggia la carreggiata. Il passeggero è rimasto incastrato tra le lamiere della vettura. Estratto è stato subito affidato le cure dei sanitari. Entrambi gli occupanti della Panda sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale di Cerie, illeso il conducente della Stilo. Accertamente in corso sulla dinamica del sinistro.